Palleggio di Bulleri, schiaccia per terra per Mian che si butta dentro, c'è una deviazione, la palla schizza in mano a Galanda che trova ancora Mian, ultimi 10 secondi Mian per Marconato, la schiacciata di Dennis Marconato. Bulleri con una palla che pesa 6 tonnellate, parte dalle sue mani e va al bersaglio, meno di 6 secondi, Demirel dal palleggio, rallentato da Galanda, non si spende il fallo, Demirel sbaglia, è finito, è finito, si va a Stoccolmo. Il Rivera di quest'Italia-Germania, la schiacciata di Marconato è senz'altro come il gol di Rivera. Ed è ancora qui, il Rivera è ancora qui. Beh qui c'è Mazzola per la verità, stasera. C'è Valerio Mazzola, però non Sandro Mazzola. Sono ancora emozionato a rivedere quelle immagini, quella fantastica.